Buongiorno a tutti, amici, amici di I am Mr. Blogger Badaliani. Faccio questo video per parlare di pagelle, ma pagelle non sono, di Milan-Lazio, ma faccio questo promo perché video di un'altra maglia di gay calcio che oggi ho ordinato, non solo maglie del Milan, quelle devo ancora finirle, ma ho preso la maglia della nazionale fresca campione d'Europa, in quel di Wembley, It's Coming Rome, beh, ho preso una maglia, mica una, ho preso anche un'altra che domani vi faccio vedere, però intanto questa è la maglia della nostra nazionale, Scondo Valère, sempre Scondo Valère, ordinate, poi metto tutto sotto, tutte le info le metto sotto, guardate che bella maglia, che meraviglia, e l'ho messa perché mi piace un casino, mi piaceva un sacco, è veramente una bella maglia, e ho preso anche questa, ho preso l'altra maglia del Milan, quella bianca, abbiamo quasi finito, ma devo ancora finire, quindi continueremo, quindi che i calcio, gruppo Telegram, ordinate, Scondo Valère, per ordinare tramite Whatsapp, quindi chiedete e vi sarà dato, e vi sarà spedito, qualche giorno ci vuole, però fidatevi che arrivano, arrivano belle impacchettate, questa, questa la devo ancora sigillare, la devo ancora aprire, ma la apro domani, ma parliamo ancora di Milan Lazio, perché le pagelle sono difficili da fare, perché dieci a tutti, forse l'unico che ha giocato male, e ha rischiato il rosso, è stato Bagaia, però, però, e si è anche fatto male, ma gli altri, gli altri, lacrime agli occhi, è tornato il mio zio, è tornato Ibrahimovic, quindi, otto a zio, solo perché è tornato, e poi ha invizzato dopo sei minuti, ma, ma, quello che veramente ha sorpreso ieri, è stata l'applicazione del Milan, le ripartenze, la sgroppata di Leao, chiedo scusa se ho confuso ieri, Leao con i Brian Diaz, però, se Leao è questo, io mi, 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 mi tocco tutto quello che si può toccare, ma, ragazzi, Leao è tanta roba, eh, però questo deve essere, quello che abbiamo visto ieri, Rebic, due assist, Immobile non ha strusciato una palla, bene anche i difensori, bene sia Tomori che Romagnoli, Megnen ha dovuto fare una sola parata, una sola parata, su quella conclusione di Immobile, e basta, basta, quindi, veramente, un grande Milan ieri, buone anche le sostituzioni, quindi Pioli, finalmente, se ha la rosa, quando ha detto che questo è il suo Milan più forte, c'è da credergli, perché finalmente ha le alternative, ha i ricambi, ha i sostituti, ha le sostituzioni, ha quello che serve, quello che serve a un allenatore per vincere, ovvero i cambi, perché se non c'è Ibra, c'è Girù, se non c'è Girù, c'è Zio, e quindi si alternano, se non c'è Chessi, c'è Bacaia, se non c'è Tonali, c'è Crunic, se non c'è Calabria, c'è Florenzi, se non c'è Tomori, c'è Romagnoli, se non c'è Chier, può giocare Gabbia, insomma, abbiamo le alternative in tutti i ruoli, se non c'è Teo, ieri è entrato anche un buon Palo Touré in un ruolo non suo, quindi, qualcosa, questo Milan comincia finalmente a essere completo, ma ieri, ha veramente colpito, per l'intensità che ci ha messo, e a Liverpool avremo la prova del 9, tutti pronti per il ritorno a casa, si torna a casa, si torna a casa, we are Champions League, dopo anni di schifo e di assenza, quindi si torna a casa, si torna a casa, quindi mercoledì avremo la prova del 9, ma ieri bene tutti, bene tutti, bene tutti, 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 bene tutti, 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 mi è piaciuto anche Palo Touré che è entrato dopo, fidatevi un po', che grande partita abbiamo fatto ieri, che Palo Touré ieri ha fatto una buona partita quando è entrato, Rebici due assist, Zio appena entrato, ha timbrato, con la treccia, il Super Saiyan, l'orgoglioso principe dei Saiyan, malvagio e privo di compassione, tanta bestialità, tanta bestialità che a me mi fa godere, mi fa andare in estasi, quella bestialità, ha alzato il piede in faccia a Florenzi, in faccia a Luiz Alberto, mi sa che era, gli ha messo in faccia, gli ha preso il pallone, cioè quelle robe bestiali, che a me mi fanno andare in estasi, ma ieri veramente il Milan ha fatto una grande partita, e ha dato un segnale, e ha dato un segnale, che quest'anno si può fare, si può fare, con calma, senza illuderci, perché poi ci facciamo male, eh, perché già ci sfottano, sono tornati i campioni d'inverno, ma va bene, poi dopo vediamo, eh, prima o poi dobbiamo vincere anche noi, non è che, l'AIA deve far vincere soltanto voi, eh, prima o poi toccherà una a noi, però, però, grande partita dei ragazzi, perciò dico, le pangelle, questo era più un video per farvi vedere, la maglietta di calcio, che le pangelle, che devi fare, che devi fare, ieri, meravigliosi tutti, il Lazio poca roba, a parte chiusa la parentesi, però, come ha detto Farconero, è una sconfitta, che può fare più male, più bene che male, che forse ti eri esaltato troppo, e sei tornato con i piedi per terra, però, è presto ancora, siamo all'inizio, però ormai il Milan, va su, va sui binari delle certezze, che ha sempre avuto da un anno e mezzo, a questa parte, intensità, pressing, 4-2-3-1 collaudato, cambi giocatori, ma l'idea di base c'è, il Milan ha un'idea di base, che è tranquilla, è collaudata, è sicura, è, è meravigliosa, quindi, per questo dico, pagelle, c'è poco da fare, c'è solo da godere, perché il Milan finalmente, ha la rosa per competere, sui tre fronti, perché su tre fronti, campionato, Champions e Coppa Italia, e sperando di quagliare qualcosa, di vincere qualcosa, perché io non voglio fare complimenti, cambiano in inverno, e poi vincono gli altri, però, purtroppo, non è che, è scritto, nella pagina del destino, che si vince per forza, se lo bisogna andare a prendere, però, c'abbiamo la rosa, c'abbiamo la rosa, ribadisco, 10 a tutti, tranne a Bacaia, che è l'uno che, ha giocato, peggio degli altri, ha rischiato anche il rosso, Lazio, poca roba, Immobile ha fatto schifo, forse, Zaccagni, l'unico che si salva, Reina ha parlato il giusto, sui gol non poteva nulla, Acerbi ha perso Ibra, sul taglio di, sulla palla di Rebic, quindi, 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 questo, oggi fare le pagelle, è quasi inutile, è più un commento, allo schifo, dei, 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 dei coli razzisti, che sono arrivati a Bacaioco, vergogniamoci, ma tanto è una battaglia persa, perché gli imbecilli, ci sono, e ci condivideranno ad essere, ma, ma, ne ribadisco, ieri, veramente, abbiamo dato una, una grande dimostrazione, faccio i complimenti a Neschio, a quelli che, hanno, veramente, forse noi, noi tifosi del Milan, eh, a volte non ci accorgiamo, di quando la nostra squadra, venga, non dico invidiata, però gli altri si accorgono, più di noi, eh, più di noi, quello che veramente valiamo, perché ieri, vedere il video di Neschio, quello di Falco Nero, cioè, Neschio è rimasto impressionato da Milan, perché Milan ha dato, l'impressione, ma la certezza, da un po', da un anno e mezzo, a questa parte, di essere squadra, e soprattutto, di giocare, un calcio, che sa, a memoria, sa a memoria, quei, ormai, è entrato nel, nei loro meccanismi, e cambiando gli interpreti, non è cambiato il risultato, non si è andato in confusione, non è andato un rigurgito, non c'è stato un, 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 un reflusso, uno schifo, eh, perché ormai i giocatori, hanno assimilato, questo modulo, si sentono parte, di un progetto, e c'è un'idea, ma bisogna quagliare, bisogna vincere qualcosa, perché il gruppo c'è, la squadra c'è, ieri ha giocato la grande, ma non soltanto ieri, è partito da, da, da quel Milan-Lecce, quando si riprese, da quel Lecce-Milan, quando si riprese, e poi, tu, due campionati e mezzo, che giochiamo così e bene, dal fine, fine 2019-20, 20-21, e 21-22, che noi giochiamo bene, è arrivato Zio, ci ha salvato dalla B, ed alla fine, ed è cambiato il mondo, rischiavamo di morire, adesso giochiamo a pallone, e siamo tornati, dove meritavamo di tornare, in Champions League, ora è ora di quagliare, è ora di far vedere, anche all'Europa, il bel lavoro, di Stefano Pioli, Simon Ghiar, Frederic Massara, Zlatan Ibrahimovic, e Paolo Maldini, che hanno salvato il Milan, dalla fine, quindi questo è, quindi questo, ribadisco, non è un video, era un video per, ancora parlare, della meravigliosa partita di ieri, ma, in chiusura, ribadisco, questo è anche un video, di unboxing, per le nuove maglie di K-Calcio, domani, nel video, pre, un giorno pre, scartiamo questa, che credo, sarà la partita di Milan, al ritorno in Champions, con la divisa bianca, credo, e quindi, parleremo di Liverpool-Milan, analizzeremo un po', il Liverpool, quello che dobbiamo temere, come possiamo fargli male, domani, domani mattina, in tarda mattinata, altro video, sempre di unboxing, di maglie K-Calcio, perché, ho preso anche l'altra maglia, della nazionale, questo poi domani, me ne metto, e quindi, quando farò i video, durante la sosta, userò le maglie, della nazionale, ciao a tutti,